Ciao a tutti, quest'oggi faccio una recensione di questo cavo lighting per Davis Apple. Di solito non faccio mai le recensioni per i cavi, perché naturalmente sono cavi, quindi non è che ci sia molto da recensire, ma in questo caso voglio proprio farla perché è un cavo speciale, speciale per tre motivi. Il primo motivo è che è interamente rivestito, come potete vedere, in pelle. Secondo, che ha gli inserti in legno, sia nell'attacco lighting, sia nell'attacco USB. Quindi, pelle, legno, quindi bellissimo cavo. La cosa che mi ha fatto pensare di fare questa recensione è che la presa USB è reversibile, cioè non abbiamo più il problema di incastrare la presa e trovare il verso giusto, perché questa è completamente reversibile. Quindi può essere usata sia da una parte che dall'altra. Questa funzione, questa reversibilità, la bellezza di questo cavo, ripeto, in pelle e gli inserti in legno, mi hanno spinto a fare una videoprova, una videorecensione di questo cavo. compatibile con tutti gli accessori Apple, iPhone, iPad e via dicendo. Quindi non posso fare altro che consigliare nell'acquisto. Ciao a tutti!